L'inforata di Paduli è una tradizione che si rinnova ogni anno, è un qualcosa ormai che sta caratterizzando il comune di Paduli. Quest'anno che novità ci sono, che sorprese, che anticipazioni ci può dare? Sì, allora oggi siamo qui per la presentazione della 29esima edizione dell'inforata, che ormai è tradizione della comunità padulese. Devo dire che c'è una simbiosi tra quello che è il sacro e il profano, perché oltre all'aspetto sacro e quindi tutta la giornata dedicata all'inforata, l'aspetto religioso c'è anche un aspetto laico, perché da alcuni anni, soprattutto quest'anno, abbiamo ideato alcune sezioni che fanno parte, e quindi manifestazioni collaterali che fanno parte sempre dell'inforata, che va dallo sport all'enocanastronomia, alla cultura e allo solo food. Quindi abbiamo varie associazioni che collaborano insieme a noi per la realizzazione di queste infiorate. Quindi sarà un'inforata ancora più ricca degli altri anni. L'anticipazione che posso fare è che il 28 giugno saremo a Piazza San Vito, quindi a Roma, per partecipare insieme alle altre infiorate più belle d'Italia, come candidatura Unisco. Ricordiamo un po' l'appuntamento, le date, i luoghi? Sì, allora, l'appuntamento dell'inforata è il 2 giugno, quindi domenica 2 giugno, le zelatrici, a cui va un mio prezioso ringraziamento, perché senza le quali sicuramente l'inforata come aspetto religioso sicuramente non potrebbe esserci, il 2 giugno quindi c'è l'appuntamento club, però iniziano le manifestazioni, come dicevo prima, le manifestazioni collaterali iniziano già dal 18. Inizia questa edizione del 2024 dell'inforata a Paduli, un evento molto sentito, che ha una ampia e grande tradizione e che sicuramente permetterà a tante persone di conoscere la realtà, la comunità, una comunità che lei guida spiritualmente. Sì, mi auguro che ci siano tante persone perché vale davvero la pena esserci, perché è un momento straordinario di creatività, è un momento di fede, è un momento di comunità. Pensate che ci sono circa 500 infioratori, quindi sono tantissime le persone coinvolte. È una realtà che è un sogno che si realizza, perché è nata così per caso, con i bambini dell'ACR di un tempo, che oggi sono in qualche modo protagonisti dell'inforata, l'autrice dei bozzetti, che poi magari vedrete, è qui presente oggi come artista. Allora era una bambina che faceva i quadri in mezzo alla strada. È un momento che per me rappresenta anche l'unione della comunità, sia nella sua dimensione sociale, sia nella sua dimensione religiosa. Perché l'infiorata di Paduli nasce all'interno della parrocchia, poi viene accolta nella dimensione più ampia del paese. Oggi vede coinvolti il Comune, la Proloco, tante associazioni che danno il loro contributo per renderla una manifestazione che possa attrarre persone diverse dai gusti diversi. Sarete anche a Roma, ci ha detto il Sindaco, quindi a presentare questa infiorata al Santo Padre, perché sarete in Piazza San Pietro. Di questa esperienza ci vuole parlare un attimino? Sì, sarà un'esperienza completamente nuova, presumo, non l'abbiamo mai fatta, però ci viene riconosciuto il valore di queste infiorate, il valore anche dei maestri infioratori, per cui non l'abbiamo accettata di buon grado. L'altro giorno il Presidente nazionale della Prologo ce l'ha comunicato, noi abbiamo accettato e speriamo di fare un'esperienza bellissima, portando con noi il logo dell'infiorata del maestro Mimmo Paladino, perché si arricchisce del logo del maestro Mimmo Paladino, e insieme alla confraternita cercheremo di dare le risposte che le persone si attendono.